Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TRM H24. Una collutazione tra tre vigili urbani e un giovane corriere di una ditta di spedizioni è stata filmata questa mattina a Taranto da parte di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Il video ha in breve tempo fatto il giro del web scatenando un botta e risposta tra maggioranza e opposizione in Consiglio Comunale sulle responsabilità. Vediamo. Tre vigili urbani che strattonano e ingaggiano una collutazione con un giovane corriere che aveva parcheggiato il furgone della ditta di spedizioni sulle strisce pedonali. Questo è il contenuto delle immagini girate a Taranto da un passante che sono diventate presto virali sui social network. Non è chiaro se il giovane abbia avuto una reazione dopo essere stato multato o si sia rifiutato di fornire i documenti. La scena non è però passata inosservata tanto che diversi cittadini si sono schierati a difesa del ragazzo. La situazione è tornata poi sotto controllo solo dopo l'arrivo della polizia. I consiglieri comunali di opposizione Massimo Battista, Luigi Abate e Francesco Battista hanno presentato un'interrogazione al sindaco di Taranto chiedendo una dettagliata relazione, si legge nella nota, su quanto accaduto e sugli eventuali provvedimenti immediati che si intendono applicare nei confronti degli agenti coinvolti nello spiacevole episodio. Rispetto all'intervento effettuato questa mattina dalla polizia locale ripreso da diversi video amatoriali, la direzione competente ha avviato gli accertamenti del caso e siamo in attesa di una relazione dettagliata da parte degli operatori coinvolti affinché si possa ricostruire l'esatta dinamica degli eventi e invece il commento del sindaco del capologo ionico Rinaldo Melucci affidato ad una nota ufficiale. Seguiremo con attenzione l'evoluzione della vicenda confidando che si faccia presto piena chiarezza garanzia dei diritti di tutti i soggetti coinvolti e del rispetto del codice. Al momento ciò che si può osservare è una reazione molto scomposta da parte del conducente davanti all'elevazione di una multa a carico di un furgone che sostava a contromano nei pressi di un'intersezione ostruendo uno scivolo predisposto per i cittadini diversamente abili, prosegue Melucci. Come detto attendiamo la relazione ufficiale per avere un quadro più significativo, tuttavia se confermate deve essere inequivocabile per una città civile che certe infrazioni e reazioni sono intollerabili. E continuiamo con la cronaca, mafia foggiana, un blitz della guardia di finanza di Pescara ne ha portato agli arresti otto esponenti di spicco che avevano esteso la loro attività criminale fino alla provincia abruzzese. Il servizio. 8 arresti di cui 4 in carcere e 4 domiciliari sono stati disposti nei confronti di esponenti di spicco della Cosca, nota come società foggiana. A questi si aggiungono un obbligo di dimora e due obblighi di firma, oltre a sequestri di due immobili a Pescara e Grusseto, 300.000 euro in contanti e le quote di 5 società operanti pescarese per un valore complessivo di 2 milioni di euro nella disponibilità del sodalizio criminale. E' il risultato di un'operazione condotta tra Pescara, Foggia e Grusseto dalla guardia di finanza di Pescara con la collaborazione delle fiamme gialle foggiane, in seguito a un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. I pedinamenti e le intercettazioni di oltre 700.000 conversazioni hanno permesso di far emergere, attraverso i reati di usura, estorsione, ricettazione e intestazione fittizia di beni, le ramificazioni nella provincia di Pescara del clan Moretti-Lanza-Pellegrino. La cosca foggiana si sarebbe infiltrata nel tessuto economico locale con il metodo mafioso, sottoponendo a minacce, aggressione ed estorsioni gli imprenditori del posto. Tra le vittime il titolare di una nota attività di ristorazione del pescarese, che sarebbe stato sottoposto a tassi di interesse fino al 600% al mese, per un prestito di 100.000 euro. Non potendo pagare il debito, gli imprenditori sarebbero stati costretti a chiudere la partita con gli strozzini, simulando prima un comodato a uso gratuito a tempo indeterminato e poi un contratto di affitto dell'appartamento di proprietà nel centro di Pescara, dal valore di circa mezzo milione di euro. Via Libera in due comuni pugliesi ha la trascrizione integrale dei certificati di nascita per i figli nati da coppie eterosessuali con maternità surrogata all'estero. La notizia è stata diffusa dall'associazione Luca Coscioni, che ha spiegato ai nostri microfoni l'importanza di tale decisione nel dibattito nazionale sul tema. Due giudici pugliesi hanno riconosciuto il diritto, in due differenti casi, alla trascrizione integrale dei certificati di nascita per i figli nati da coppie eterosessuali con maternità surrogata all'estero. A renderlo noto è l'associazione Luca Coscioni, che ha assistito legalmente le coppie. I due provvedimenti riguardano la trascrizione di certificati di nascita di bambini nati in Ucraina. Le coppie si erano viste rifiutare da parte degli ufficiali di Stato civile dei loro comuni di residenza la trascrizione integrale del certificato di nascita dei loro figli, emesso dalle autorità ucraine e regolarmente trasmesso dal Consolato italiano ai comuni. In questo modo il bambino risultava avere solo un genitore, quello biologico. In un caso la coppia era stata persino iscritta nel registro degli indagati per il reato di alterazione di Stato, che punisce chi altera lo Stato civile di un neonato mediante false certificazioni o attestazioni. Sentenze importanti dunque che giungono in una giornata altrettanto centrale per il dibattito sul tema a livello nazionale. Oggi assume particolare importanza perché al Senato abbiamo appena assistito al parere negativo nei confronti di quello che la Commissione europea vuole emanare, che è il certificato europeo che riconosce appunto la genitorialità in tutti i paesi. Il parere negativo mira a influenzare quelle che sono le normative comunitarie, ma questo non può essere. Quel regolamento europeo prevede che gli atti di nascita dei bambini nati anche da coppie dello stesso sesso siano trascritti correttamente. Siamo adesso al lavoro. Dopo il rinnovo del contratto tra alcune parti sociali e Stellantis, i sindacati hanno dato via ad un volantinaggio all'ingresso dello stabilimento di San Nicola di Melfi. Intanto arrivano importanti novità sull'organizzazione del lavoro. Ascoltiamo. I lavoratori di Stellantis a San Nicola di Melfi dal prossimo 26 marzo avranno due turni di lavoro in meno. Dagli attuali 17 infatti si passerà a 15. una notizia che in soldoni significa la soppressione dei turni del sabato. E' quanto emerso a margine di un incontro che si è tenuto nello stabilimento lucano tra la direzione aziendale e le sigle sindacali FILM, WILM, FISMIC, UGLM e AQCF. Una nuova organizzazione permetterà una più equa gestione degli ammortizzatori e soprattutto una migliore conciliazione tra la vita lavorativa e privata, hanno sottolineato i sindacati. Abbiamo modificato i turni da 17 a 15 sull'area più grande, il montaggio. Anche perché lavorando da lunedì al venerdì c'è una migliore condizione nella settimana e si evita appunto di avere un'organizzazione del lavoro che fino a questo momento è stata molto complicata. Fermo restante che persistono i problemi di approvvigionamento di materiale. Però con i 15 turni i lavoratori avranno più stabilità e sapranno in modo più chiaro la loro settimana come sarà articolata. Pertanto oggi, ma anche questo grazie al nuovo contratto che mette delle regole ancora più stringenti anche sui recuperi produttivi, abbiamo permesso di dare un'ulteriore risposta ai lavoratori che da tempo lamentavano questo problema. Intanto la FIOM CGL continua la sua azione per sottolineare la contrarietà al rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro che le altre sigle sindacali e stellanti s'hanno sottoscritto lo scorso 8 marzo a Torino. Favorevoli e contrari hanno infatti organizzato avanti i cancelli dello stabilimento della città federiciana un volantinaggio per spiegare le loro apposte visioni sull'accordo. È necessario che i lavoratori oggi siano partecipi a una discussione di questo genere perché purtroppo ancora oggi si prova a fare tutto senza i lavoratori quindi anche questo contratto purtroppo è stato firmato senza il coinvolgimento dei lavoratori. E torniamo adesso a parlare del braccio di ferro tra il governo nazionale e la Puglia sui giochi del Mediterraneo a Taranto. Il deputato del PD Ubaldo Pagano è duro nei confronti di Roma e aggiunge temo che il caso sia stato aperto per giustificare un commissariamento. Sentiamo. Esiste davvero il rischio che saltino i giochi del Mediterraneo a Taranto? Chi si assumerà questo tipo di responsabilità ne dovrà rendere conto ai tarantini e alla storia. Per quanto mi riguarda farò le barricate. Dura presa di posizione del deputato pugliese del PD Ubaldo Pagano sulla carella politica riguardo ai giochi del Mediterraneo in programma a Taranto nel 2026. Il governo continua a chiedere chiarimenti attraverso i ministri Fitto e Abodi. La Puglia ritiene di essere nel giusto ed aspetta i soldi necessari a proseguire nell'iter organizzativo. Il governo giallorosso e poi il governo Draghi ci hanno messo 155 milioni di euro per l'organizzazione dei giochi, ancora insufficienti perché ne servirebbero almeno 200. Quelle risorse che sono state già oggetto di un accordo tra il precedente ministro Carfagna e il comitato organizzatore devono essere liquidate. Il ministro Fitto e il ministro Abodi le tengono bloccate ormai da quattro mesi e mezzo e ogni volta si chiedono per quale ragione non vengano erogati questi fondi. Io penso semplicemente perché si voglia indurre il caos per giustificare un commissariamento e la stessa sbornia che da sempre la destra è fitta in prima persona tenta di fare su tutte le risorse disponibili. Ovviamente tutto questo sulla pelle dei tarantini perché questi ritardi non si giustificano. La vera domanda da fare è come mai per Milano Cortina si danno 2 miliardi e mezzo di euro e già si liquidano quelle risorse e per Taranto mancano ancora 50 milioni e 200 che servirebbero e i 150 che noi eravamo riusciti a far avere ancora non vengono liquidate. E restiamo a Taranto dove c'è stata una lezione magistralis del questore Massimo Gambino sul tema polizia di Stato e sicurezza inclusiva. Al termine dell'incontro è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Dipartimento Ionico dell'Università di Bari e la stessa questura. Vediamo. Instaurare un rapporto stabile, sistematico e strutturale di collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività di ricerca, di public engagement e innovazione anche nell'ambito delle attività di didattica e alta formazione sono alcuni degli obiettivi dell'intesa tra questura di Taranto e Dipartimento Ionico dell'Università di Bari. La firma è stata siglata al termine della lezione magistralis del questore Massimo Gambino sul tema la polizia di Stato e la sicurezza inclusiva. Grazie alla collaborazione col Dipartimento Ionico sottoscriviamo una convenzione in cui sostanzialmente andiamo a declinare quelle che sono le attività della Polizia di Stato con uno scambio diciamo abbastanza proficuo tra Università e Polizia di Stato. La collaborazione riguarderà tra l'altro la creazione di ambiti comuni per la ricerca, la sperimentazione, la sensibilizzazione in merito ai temi della sostenibilità, della tutela dei diritti, della cura dei beni comuni e soprattutto dei beni confiscati nonché la divulgazione e il trasferimento delle conoscenze comuni. Rientra nell'azione volta a creare sinergie empatiche, le chiamo così io, con le altre istituzioni per valorizzare proprio questo meraviglioso laboratorio a cielo aperto che è il territorio Ionico. E restiamo ancora a Taranto dove il Comune fa il punto sul nuovo piano urbanistico generale per la redazione del quale è stata chiusa la fase 1. Vediamo. Chiusa la prima fase per la redazione del nuovo piano urbanistico generale per Taranto sono state recepite così tutte le modifiche intervenute sulle pianificazioni preordinate dal 2019 a oggi. Un lavoro illustrato in un incontro con il sindaco Melucci e il professor Carrer a capo del team di lavoro. Ricostruito il complesso quadro d'insieme si è passati alle modifiche che caratterizzano appunto la fase 1 e che hanno un riflesso sulle invarianti strutturali del piano attraverso una prima definizione degli specifici contesti territoriali con un'attenzione particolare al sistema della sicurezza, al sistema ambientale e paesaggistico come per il Mar Piccolo al sistema della mobilità con l'avvio delle BRT elettriche e la progressiva pedonalizzazione della città vecchia e ancora al sistema insediativo con gli accordi di programma operativi in molti quartieri dai tamburi alla salinella oltre che al piano delle coste in valutazione negli uffici regionali. Nel corso dell'incontro è stato ribadito che occorrerà tenere presente le programmazioni pubbliche e private ancora in corso di approvazione ma intese intervenire sul modello di sviluppo economico e sull'assetto urbanistico generale di Taranto dall'ambito dei fondi della transizione giusta europea fino alla rifunzionalizzazione di alcune aree demaniali militari. E adesso con la mobilità in Puglia si va verso la riapertura della linea ferroviaria tristemente protagonista della strage Corato-Andrea. I dettagli nel servizio? Si è conclusa positivamente la fase relativa alla riapertura della linea ferroviaria di ferro-tranviaria che collega Bari Centrale ad Andria Sud, quella lungo la quale nel tratto tra Andria e Corato nel luglio del 2016 si verificò lo scontro frontale tra due treni che causò la morte di 23 persone. Si va quindi verso la riapertura ufficiale ma con un cronoprogramma già ben definito. Ci sarà una prima fase che tecnicamente si definisce switch off con lo spegnimento dei sottosistemi di comando e controllo attualmente in esercizio e la loro successiva graduale riattivazione nella nuova configurazione che consentirà l'apertura all'esercizio sull'intera tratta da Bari Centrale fino ad Andria Sud. Una fase fondamentale e propedeutica che comporterà la chiusura temporanea della circolazione di tutta la linea ma in fasi graduali, determinando però disagia l'utenza. Pertanto a partire da lunedì prossimo 20 marzo e fino al 27 l'attività di switch off avverrà per fasi successive consultabili sul sito ferrotranviaria. Lunedì 27 marzo sarà ripresa la circolazione sulla tratta da Bari a Ruvo. In caso di esito positivo lunedì 3 aprile è previsto l'avvio della circolazione anche sulla tratta Ruvo-Corato-Andria con l'apertura al pubblico della nuova fermata di Corato Sud Ospedale e della nuova stazione Andria Sud. Nei giorni di sospensione la società provvederà a fornire servizi alternativi su gomma. E siamo adesso a Foggia. Vincenzo Cardellicchio è il nuovo commissario straordinario appunto del Comune Dauno. In conferenza stampa ha lanciato un appello. È il cittadino di Foggia che deve interrompere i cicli di illegalità. Ha detto, sentiamo. Vincenzo Cardellicchio è il nuovo commissario straordinario del Comune di Foggia. Foggia è una città che non conosco, però conosco la Puglia e come io sono costretto a salire su un treno in corsa anche Foggia si trova nella stessa condizione. Nominato dal Consiglio dei Ministri, Cardellicchio subentra a Mari Lisa Magno dimessasi un mese fa. Stando alla proroga del Presidente della Repubblica rimarrà in carica e sino ad agosto di quest'anno. Sono pochi i mesi che abbiamo perché noi dobbiamo arrivare bene, in forza, all'estate e dopo l'estate ci sarà la convocazione dei comizi. Non c'è molto tempo. Quindi questo tempo lo utilizzeremo per chiudere le partite che si possono chiudere avviare qualche cosa che si può avviare e consentire, almeno provare, consentire alla città di scegliere i migliori. La Commissione straordinaria fu nominata nell'estate del 2021 a seguito dello scioglimento del Comune di Foggia per infiltrazioni mafiose, cicli illegali ancora da sciogliere. I cicli evidenti, probabilmente sì. È il cittadino di Foggia che li conosce meglio di chiunque altro e che, chiamato a rappresentare la sua città, li interrompe. Cardellicchio è affiancato dai due subcommissari, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande, già operativi con Magno e sui rapporti con i media afferma. È pericoloso parlare perché è più facile sbagliare. È indispensabile parlare per poter far capire quello che si è fatto. In Puglia aumenta il fenomeno dell'usura di prossimità. Lo conferma la Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari che ha presentato oggi il suo report per l'anno 2022. I dettagli nel servizio. 36 importanti interventi con un sostegno economico dai 10 ai 50 mila euro più altri minori a sostegno delle vittime e degli usurai. Puntuale come ogni anno, la Fondazione San Nicola e Santi Medici ha presentato il report relativo ai lavori e al sostegno dell'anno trascorso, evidenziando come il fenomeno dell'usura si è cambiato negli anni. Mentre prima le persone si rivolgevano a noi per risolvere le loro situazioni di sovraindebitamento e quindi nel tentativo di abbattere tutti i loro debiti, adesso la tendenza principale è quella di riuscire ad arrivare a fine mese. Molte famiglie sulla politica di sussidi che è stata tipica di questi ultimi anni si sono un po' coadagiate, nel senso che non si ricerca più l'aiuto per superare con le proprie forze una situazione di difficoltà, ma si chiede puramente e semplicemente l'aiuto a fondo perduto. La Fondazione di Bari è riuscita a sostenere le persone in difficoltà grazie a fondi statali pari a circa 450.000 euro e fondi propri di circa 46.000. I fondi MEF, come sottolinea il Presidente, sono aumentati rispetto al 2021, garantendo così un sostegno maggiore nei confronti delle persone in difficoltà. L'usura di prossimità è sempre esistita. Casomai quello che è diverso è la diffusione del ricorso a questa forma di soccorso, perché tale viene percepita in prima battuta dalle persone che si rivolgono al vicino di casa o alla vicina di casa per chiedere un prestito. Un anno difficile, quello del 2022, ancora segnato dalla coda Covid e dalla guerra in Europa, che ha determinato l'aumento dei costi energetici che in molti casi hanno provocato il definitivo tracollo dei bilanci dell'equilibrio delle famiglie già precarie. E sono legittimi gli atti che ad aprile dello scorso anno hanno portato allo scioglimento del comune di Trinitapoli nella provincia Bat per presunti condizionamenti da parte delle locali e organizzazioni criminali. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall'ex amministrazione comunale con in testa l'ex sindaco Emanuele Piolo Sapio che lamentava l'omessa valutazione delle azioni compiute dagli amministratori nel contrasto di alcuni atti criminosi come le occupazioni abusive degli alloggi popolari. Per i giudici però appare evidente l'assoluta assenza delle condizioni necessarie per poter garantire il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali e la corretta gestione dei servizi. E adesso la Facoltà Teologica Pugliese e l'Università degli Studi di Bari che hanno organizzato un convegno dal titolo sulle sponde del Mediterraneo. All'incontro è intervenuto anche il presidente della CEI Matteo Maria Zuppi. Sentiamo. Mediterraneo come luogo di dialogo e di pace è il tema al centro della riflessione della Facoltà Teologica Pugliese che insieme all'Università degli Studi di Bari ha organizzato nell'aula Aldo Moro di Giurisprudenza l'incontro dal titolo sulle sponde del Mediterraneo Teologie e prassi di dialogo di inclusione e di pace. Al convegno ha partecipato anche il presidente CEI Cardinal Matteo Zuppi. Credo che la saggezza, la sapienza, la storia, la geografia ci chiedono di avere questo ruolo e di aiutare l'Europa a capire il sud, l'Europa a restare unita all'est e a rifare di questo nostro mare il mare nostro e non un mare che diventa un mostro. Sulle ultime tragedie nel Mediterraneo, a steccato di Cutro e a largo delle coste libiche, è intervenuto anche l'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Giuseppe Satriano. La conformazione del Mediterraneo evoca con chiarezza che non possiamo più gestire le politiche immigratorie in un atteggiamento difensivo. Purtroppo negli ultimi 20-30 anni questo discorso non è stato affrontato da nessuna compagine politica in maniera attenta, sapendo invece e potendo anche integrare e includere questo fenomeno in un percorso di sviluppo della nostra società, con tutte le esigenze che questo comporta ma anche con tutte le opportunità che questo potrebbe far scaturire. Quindi io credo che il tema del dialogo, il tema dell'inclusività, il tema del mettere insieme le persone senza paura, credo che sia un tema che dobbiamo rimettere all'ordine del giorno. Parliamo adesso di maturità. Torna quest'anno l'esame pre-pandemia e anche la festa dei 100 giorni. A Bari si festeggia con i professori e tante le emozioni in vista del grande giorno che è fissato per il 21 giugno. Vediamo il servizio. Si festeggia con i propri compagni di classe e con i professori a 100 giorni dalla notte prima degli esami. Tanta è l'emozione tra i maturandi baresi che in vista degli esami di Stato fissati dal Ministero a partire dal 21 giugno prossimo hanno deciso di trascorrere una serata in spenseratezza e festeggiando. Festeggiando quello che verrà tra un mix di gioia e paura per la prima grande prova della loro vita. Sei pronto all'esame? Si spera. Si spera di sì. No, non solo per niente, è pronto. Io sono un po' in ansia per gli esami ma non vedo l'ora di finire la scuola, ovviamente nel miglior dei modi. Si ritorna con l'esame classico? Ve lo aspettavate? In realtà sì. Sì, sì, assolutamente. Siamo un po' spaventati ma dobbiamo studiare. Sì, mi aspettavo un ritorno anche perché è finito il periodo di pandemia. C'è un po' di paura però sinceramente non eccessiva. Qual è la prova che ti spaventa di più? I tre scritti o l'orale? Sinceramente l'orale di matematica. Più che altro l'orale. Matematica, italiano. Il 2023 dei maturandi segna quindi due ritorni. Quello dell'esame di Stato nel format pre-pandemia e quello del rito collettivo dei 100 giorni alla maturità. Abbiamo fatto una scena con Delitto con i prof e tutti i miei compagni. Sì, sì. Sì, sì, abbiamo festeggiato. Abbiamo fatto una bella festa diversa dal solito. Cena con Delitto con i professori quindi una cosa un po' più creativa del solito. Sì, abbiamo festeggiato. Bella, ci siamo divertiti, siamo stati tutti insieme. In attesa del grande giorno c'è chi pensa già al proprio futuro. La mia intenzione è quella di partecipare ai concorsi nelle forze armate. Ragazzi, 90 giorni per studiare, in bocca al lupo. Grazie mille. Ci ammetteremo tutta. Si chiama articolo 11. L'installazione è apparsa qualche giorno fa sul lungomare di Bari e ai margini della rotonda di piazza Diaz. Sei piccoli carri armati colorati come quelli del Risico sono stati posizionati sui frangiflutti e stanno attirando l'attenzione di chi passeggia e delle molte persone che soprattutto al mattino si allenano nella corsa. E adesso siamo allo sport calcio con la Serie B. Il centrocampista del Bari, Raffaele Maiello, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa Biancorossa prima della trasferta in programma domenica pomeriggio contro la Ternana. Ascoltiamo. È uno dei protagonisti dell'ottima stagione disputata fin qui dal Bari. Il centrocampista Biancorosso, Raffaele Maiello, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del buon momento dei galletti. Dobbiamo continuare il percorso che stiamo facendo. Da inizio anno all'ultima gara abbiamo sempre mantenuto la nostra identità, siamo sempre stati lì, quindi penso che la squadra c'è. Lo dimostra anche l'ultima partita con il Frosinone. Abbiamo portato un ottimo punto, un buon pareggio contro, secondo me, una squadra davvero forte. Maiello, ammonito nell'ultima partita pareggiata per 0-0 contro il Frosinone, sarà come capitano di Cesare assente per squalifica nel prossimo turno che vedrà il Bari impegnato in trasferta contro la Ternana. Dispiace non esserci domenica una partita così importante, però quando purtroppo si è diffidato prima o poi il cartellino arriva. Da parte loro è normale, secondo me, caricare la partita, non vengono comunque dall'ultima partita una sconfitta. Noi dobbiamo pensare a noi stessi come sempre. Sappiamo che da qua alla fine saranno tutte battaglie, tutte partite difficili perché i punti veramente iniziano a pesare. Così il centrocampista bianco-rosso sullo spirito di gruppo. Ognuno di noi vuole raggiungere un obiettivo importante, ognuno, noi, voi, tifosi, tutti, tutti insieme. Io quello che posso dire è che noi ce la metteremo tutta. Da qui alla fine proveremo in tutti i modi di fare il più punti possibile e di arrivare dove tutti speriamo di arrivare. E questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di TRMH24 torna con la prossima edizione del nostro telegiornale. Buona serata.